Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annuncia che entro la settimana prossima la Giunta regionale approverà la delibera che formalizza il sostegno alla manifestazione di interesse per la candidatura del Veneto alle Olimpiadi Invernali del 2026. Il Veneto, spiega la Regione, chiede fin d'ora che l'iniziativa venga valutata al pari delle altre candidature che verranno formalizzate.